Musica Bentornati nella mia cucina Oggi vi presenterò un dolce tipicamente invernale che è la cioccolata alda come potete vedere sono già messo con la tuta invernale e vediamo gli ingredienti gli ingredienti per la ricetta sono 20 grammi di zucchero semolato 25 grammi di amido di mais 25 grammi di cacao in polvere 120 grammi di cioccolato extra fondente e 500 grammi di latte intero iniziamo a preparare la ricetta e con me avrò una nuova Wings che è un po' tantino Incominciamo la nostra ricetta e adesso prendiamo il latte e lo mettiamo sul cuoco ok poi prendi il setaccio e il cacao in polvere e lo versi metti il cacao nel setaccio e lo setacci dentro vai brava brava Wings però non lo portate fuori vai sono grumi prendiamo un cucchiavino e spender perfetto poi prendi la mano di mai se facciamo lo stesso procedimento questo questo no? si vai no no quello il setaccio come vuol dire? lo sta buttando a tutte le parti se non è dentro comunque questa Wings non funziona tanto bene questo qua è subito super potere di far casino vai bene dai no da un punto ok Wings ti puoi spostare grazie e lo portiamo a sferare il colore intanto ci prendiamo la nostra cioccolata la spezziamo e la sciogliamo al minuto appena il nostro latte con il cacao e l'amido di mai si comincia a sopollire prendiamo la cioccolata al minuto onde bella sciolta e la uniamo al composto e cominciamo a girare fino a che del composto lo si addensa adesso per ultimo aggiungiamo lo zucchero naturalmente più amido di mai sputata più amido di mai si metterete nella ricetta più la cioccolata più la cioccolata della densa perché l'amido di mai è solo addensante prendiamo poi il nostro bicchiere più si raffredda più si raffredda più diventa densa più amido di mai e e e e e e Noi, 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 noi. E la nostra cioccolata calda delle Winx è pronta. Buon appetito.